Siamo onesti, i tempi sono spesso stretti, quindi vediamo come semplificare le procedure estetiche senza comprometterne la qualità. Ecco passo per passo come può essere esecuito un restauro indiretto. Ci focalizzeremo sull'applicazione delle faccette, ma la stessa procedura vale per qualsiasi restauro indiretto. La pulizia dei denti è il primo fondamentale passo. Una pasta senza fluoruro evita gli effetti negativi sullo smalto. Clinique senza fluoruro è una pasta lucidante monofase che, grazie alla tecnologia con particelle di perlite, varia il grado di abrasione per iniziare con la pulizia e finire con una lucidatura in pochi secondi. Adesso potete identificare il colore naturale per abbinare la corretta tonalità di composito. È il momento di isolare l'area di lavoro con una diga in gomma, un passo fondamentale per evitare contaminazioni. OptiDAM è una diga anatomica in 3D che si monta rapidamente grazie all'esclusivo design pretagliato. Il passo successivo è la rimozione del restauro provvisorio con OptiClean, il primo strumento rotante studiato appositamente per farlo senza danneggiare la dentina. Fatto questo, si può continuare nella preparazione del restauro con la sabbiatura o la mordenzatura con acido fluoridrico, a seconda del tipo di substrato con cui si sta lavorando. A questo punto siamo pronti per l'adesione. Il sottile spessore del film e una formulazione neutra del colore sono la chiave per rendere impercettibile lo strato adesivo. OptiBond XTR è un sistema in due fasi con una procedura standard adatta a ogni protocollo. Fornisce una forza di adesione eccezionale e risultati estetici elevati. Ha un colore neutro e solo il 15% di riempitivo che garantisce un film sottile. Come funziona il cemento NX3? Di solito ciò che determina l'instabilità del colore è la reazione chimica tra il BPO contenuto nel catalizzatore e le ammine terziarie presenti nella base. NX3 è privo di entrambi questi elementi ed è indicato per tutti i restauri indiretti. Questo significa grande stabilità cromatica e risultati estetici ideali. Vi resta solo da terminare il restauro facilmente come lo avete iniziato. I dischi per la rifinitura OptiDisc hanno differenti gradi abrasivi. Il loro design dà una migliore visibilità e aiuta ad accedere alle aree più difficili. Adesso lucidate il vostro restauro scegliendo lo spazzolino Oclubrush più adatto. È veloce e non richiede alcuna pasta lucidante. È tutto! Una procedura veloce e semplice e un restauro dall'aspetto naturale. Scoprite di più sui nostri prodotti e sulla loro tecnologia su caredental.com. Non perdetevi la prossima infografica care su una nuova procedura dentale. Grazie per la visione!